Musica Pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale, la manovra anticrisi da 45 miliardi e mezzo in due anni. Il decreto andrà poi in discussione al Senato dal 22 di agosto. Una manovra che non sarebbe stata necessaria con gli eurobond, ha detto Tremonti. Non siamo di fronte ad una nostra crisi, ma ad una crisi dell'EPIN europeo. Tagli agli enti locali e ministeri, misure sugli statali e sulle pensioni, la spesa pubblica al centro della stangata da oltre 45 miliardi, ma anche nuove tasse, contributi di solidarietà e tagli ai costi della politica, cambia la geografia amministrativa dell'Italia, scompariranno tra le 29 e le 35 province, accorpati comuni con meno di 1000 abitanti, sacconi. Le aziende potranno derogare dai contratti nazionali. L'opposizione bocce provvedimenti presi dalle governo iniqui e inadeguati, secondo il leader del PD Bersani. Non ci sono misure strutturali, accusa l'Udc di Casini. Solo tasse sui soliti noti. Cauta, apertura dall'Italia dei valori, provvedimenti con luci ed ombre, dice Di Pietro. Infuriati per i tagli gli enti locali e le regioni chiedono che il tasto venga corretto. Sono misure sostenibili per i formigoni alla fine del federalismo. Un atto di guerra contro l'Italia attacca vendola sulle barricate anche la Polverini e il sindaco di Roma, Alemanno. E ci sono ancora polemiche in Gran Bretagna. La polizia avrebbe sottovalutato la rivolta che ha incendiato il paese. Scotland Yard non accetta di finire sul banco degli imputati e accusa il governo Cameron. Nella bufera anche la polizia norvegese non si sarebbe mossa quando il killer, durante la strage di ragazzi, ha telefonato diverse volte alla polizia per arrendersi. Buongiorno a tutti voi dal telegiornale della Sette. Dunque il decreto con le misure anticrisi approvato ieri dal Consiglio dei Ministri porterà alle casse dello Stato 45,5 miliardi. In questo momento si sta tenendo la conferenza stampa dei ministri Tremonti, Calderoli e Sacconi. La stiamo sentendo. Andiamo in diretta con la conferenza stampa che è cominciata poco dopo mezzogiorno. Sono state date tutte le misure, i dettagli. A volte anche a me capita di leggere sui giornali delle cose in cui non mi riconosco, allora magari dico buona idea, ma in realtà è così. Tutto diventa una dizionale deducibile e plafonata. Ma riguardo a tutti, ripeto, tranne i parlamentari che per un gioco perverso di qualifiche e di voci vengono incisi per il doppio. Ministro, volevo sapere se rimane in vita questo possibile taglio della tredicesima per i dipendenti pubblici, le cui amministrazioni non hanno rispettato gli obiettivi di risparmio di cui si era parlato. E poi, per cortesia del ministro Sacconi, se ho capito bene, l'articolo 18 entra nella pena di suonibilità del contratto aziendale, quindi? Allora, non è un taglio, è uno slittamento nella erogazione. In ogni caso, il presupposto è che i ministeri facciano davvero i tagli. Siccome l'esperienza di questi anni indica che li fanno e possono farli, è un evento puramente remoto. Allora, avete sentito un estratto della conferenza stampa. Tremonti in questo momento sta rispondendo alle domande dei giornalisti. La conferenza stampa è iniziata poco dopo, mezzogiorno. Vi dico solo una cosa, perché poi tra poco vedremo il servizio. Ha detto che la crisi non riguarda soltanto il nostro paese, ma una quota enorme delle PIL dell'Europa. Allora, vediamo il servizio che è di Gaia Tortora e su tutte appunto le misure di questo decreto anticrisi. Dopo la veloce conferenza stampa di ieri sera, oggi i ministri interessati, ovvero Tremonti, Calderoli e Sacconi, si presentano nella sala stampa di Palazzo Chigi per spiegare nel dettaglio quella manovra a lacrime e sangue che per ora scontenta tutti. Tremonti fa una premessa, con gli Eurobon non saremmo a questo punto. La crisi non è solo italiana, può toccare altri paesi. Poi elenca le tre parti che compongono la manovra da 45 miliardi. L'impressione è che ci sia una forte attesa per il vertice franco tedesco della prossima settimana. Molto dipende dalle scelte che potranno essere fatte sull'Europa e per l'Europa nei prossimi giorni. È un decreto che possiamo dividere in tre parti. La parte relativa, ho detto, ai costi degli apparati burocratici e politici, alla loro riduzione. La parte relativa allo sviluppo e la parte relativa alla finanza pubblica. Io, per come siamo qua, penso che sia opportuno che ne parli il ministro Calderoli. Il punto di caduta finale e definitivo rispetto ai tagli dei costi della politica sarà il disegno di legge costituzionale che è stato recentemente approvato in Consiglio dei Ministri e che porterà non solo al dimezzamento del numero dei parlamentari, ma attraverso la fine del bicameralismo perfetto e quindi una specializzazione delle due Camere, i tempi che erano conseguenti alle navette tra Camera e Senato verranno dimezzati e conseguentemente anche le spese dell'attività legislativa. Siamo intervenuti applicando anche a livello dei parlamentari quanto già previsto per i dipendenti del pubblico impiego, raddoppiando l'entità dei tagli che verranno a loro applicati, ovvero al di sopra dei 90 mila e fino a 150 mila il taglio del 10% e al di sopra dei 150 mila il taglio del 20%, quindi il doppio dei 5-10 previsto per il pubblico impiego. Si è poi andati a intervenire sulle indennità dei parlamentari, e ovviamente queste riguardano anche altri organi costituzionali, non solo i parlamentari, che svolgano anche altre attività professionali e quindi non facciano il parlamentare a tempo pieno. Il federalismo fiscale, c'è stato l'incontro con i vari livelli di governo, ovviamente non abbiamo trovato degli amministratori felici rispetto ai tagli che si sono trovati davanti, ma credo che nessuno di noi avrebbe voluto fare non solo questa, ma anche la precedente se non ci fosse stata una assoluta necessità. È la volta poi del Ministro del Welfare Sacconi che illustra la parte che riguarda il lavoro e la contrattazione aziendale. Penso alle collaborazioni coordinate e continuative che entrano nella disponibilità della contrattazione aziendale alla quale tradizionalmente non venivano riferite perché considerate lavoro indipendente, in questo modo la contrattazione aziendale può rafforzarne per esempio le tutele, fino alle conseguenze del licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo con l'esclusione del licenziamento discriminatorio o di quello in prossimità della maternità perché si tratta di ove riconosciuti tali di licenziamenti nulli. Sono tutte norme che si iscrivono nella cosiddetta legislazione di sostegno all'autonomia delle parti. Mai il legislatore con queste norme interviene a modificare leggi o contratti ma sempre esalta, rafforza, amplia l'autonomia delle parti. Era la logica dello Statuto dei Lavori. Questa dunque la conferenza stampa, sono le parole di Calderoli, Tremonti e Saccone, una conferenza stampa che è ancora in corso. Andiamo in diretta, sentiamo che cosa stanno dicendo. Rimane più popolazioni o vengono fatte delle elezioni per stabilire dei tre sindaci? Nel caso dei comuni al di sotto dei mila abitanti viene eletto esclusivamente il sindaco che mantiene la delega per l'anagrafe. Il sindaco è il consigliere comunale dell'Unione dei Municipi e quindi i sindaci dell'Unione eleggeranno all'interno del Consiglio il loro presidente e i membri della Giunta in modo che le persone e le relative indenità sono esclusivamente quelle. Ecco, questa era una parte della conferenza stampa in questo momento si stava rispondendo alle domande dei giornalisti su uno degli argomenti principali di questa manovra che riguarda la struttura dello Stato che vedremo più avanti. Invece vediamo come hanno accolto questa manovra le opposizioni. Il più duro è stato Bersani. Questa manovra colpisce soprattutto i ceti popolari e i ceti medi mentre Di Pietro nella manovra vede luci ed ombre. Vediamo il servizio che è di Manuela Ferri. Partito Democratico e Terzo Polo bocciano nettamente la manovra anticrisi. Le parole più dure arrivano da Bersani. C'è una forte preoccupazione, è iniqua e inadeguata. Non è in grado di risolvere i problemi e è a carico dei ceti popolari e dei ceti medi. Non c'è nessuna ristrutturazione ma si tratta solo dell'anticipo di misure che da tutti i mercati erano giudicate inadeguate. Il segretario del PD annuncia le controproposte del suo partito. Sfidando la maggioranza, vi indicheremo noi le cose difficili da fare e quelle che non volete fare perché colpirebbero i vostri, quelli cioè che non pagano le tasse. Giudizio negativo anche dall'Udc. La manovra non contiene riforme strutturali e colpisce le famiglie. Il ceto medio è infarcita di tasse e balzelli. È l'esatto opposto di ciò che serve al Paese e agli italiani. Il PD attacca Bocchino, più tasse e meno servizi è la sintesi del vicepresidente di Futuro e Libertà. Lapidi Rutelli lancia l'allarme sui forti rischi di effetti gravemente recessivi. Malumori anche nella componente suddista della maggioranza. Adriana Poli Bortoni di YouSud parla di penalizzazione del Mezzogiorno. Il sottosegretario Miciche minaccia di votare contro se non ci saranno stanziamenti per le regioni meridionali. A sorpresa arriva invece l'apertura di Antonio Di Pietro che parla di luci e ombre. Sono state accolte parte delle nostre richieste, osserva il leader dell'Italia dei Valori, anche se restano gravissime misure come il taglio alla spesa locale. Ma il governo è finalmente passato dalle parole ai fatti presentando la manovra prima dell'affondo del Titanic. Noi dell'IDV faremo fino in fondo il nostro dovere per evitare che la nave cali a picco. Il 22 il provvedimento arriverà in commissione al Senato e dovrebbe approdare in aula il 5 settembre. Siamo aperti a miglioramenti, ha affermato Berlusconi nella conferenza stampa di presentazione del decreto auspicando che non si arrivi ad approvarlo con il voto di fiducia. Il confronto in aula si prevede durissimo anche se le opposizioni non potranno non tener conto dell'invito al senso di responsabilità lanciato dal capo dello Stato. Intanto vi dico che la conferenza è appena finita. Dunque, una manovra che introduce nuove tasse. Allora cerchiamo di capire meglio nel servizio di Sonia Mancini. Uno su cento. È questa la percentuale degli italiani che dichiarano redditi superiori a 90.000 euro l'anno. 511.534 cittadini. Si tratta di pensionati e di lavoratori dipendenti, quindi soggetti al prelievo delle imposte direttamente dalla busta paga, e di lavoratori autonomi. È a loro che la manovra aggiuntiva taglia deficit da 45 miliardi e mezzo chiede il contributo di solidarietà del 5-10% sui redditi. Secondo il Presidente del Consiglio Berlusconi, il nuovo balzello, già previsto per dipendenti pubblici e pensionati nella nuova manovra approvata a luglio ed è steso ora a privati autonomi, resterà in vigore per due anni. Ma su questo si attendono dettagli. Vediamo di capire meglio come funziona con un paio di esempi. Per un lavoratore dipendente con reddito imponibile lordo di 91.000 euro l'anno, il contributo di solidarietà ammonterà a 50 euro. Allo stesso soggetto, con reddito imponibile lordo di 151.000 euro l'anno, saranno prelevati 4.000 euro. Stesso prelievo, ottenuto sotto forma di incremento delle aliquote IRPEF, verrà versato dai lavoratori autonomi con redditi superiori ai 55.000 euro. Fatta la legge, o meglio il decreto legge, l'esecutivo cerca il modo di scovare l'inganno. Ed ecco che la manovra prevede un giro di vite sull'evasione fiscale, col divieto di pagare in contanti per importi superiori a 2.500 euro. Si prevedono poi sanzioni fino alla sospensione dell'attività commerciale o dall'ordine professionale in caso di mancata emissione di scontrini e ricevute da parte di negozianti e professionisti. Perplessa con commercio, che non vede alcuna novità nella misura. La chiusura dell'attività era già prevista per l'evasione di somme considerevoli, mentre, sottolinea, l'assurdità di inasprire le sanzioni in tempi in cui le vendite scarseggiano. Ma a creare maggiore perplessità sono soprattutto le novità sul trattamento di fine rapporto e tredicesima per i dipendenti pubblici. Il testo appena proposto prevede che per gli statali che vanno in pensione per anzianità, non per vecchiaia, la liquidazione arrivi dopo due anni dall'uscita dal lavoro. Finora i tempi di attesa erano in media di 6-9 mesi. Quanto alla misura sulla tredicesima, il nuovo testo stabilisce che i dipendenti della pubblica amministrazione che non rispetti gli obiettivi di riduzione della spesa fissati paghino questa mancanza di tasca propria, ovvero perdono la tredicesima mensilità. Su questo ultimo punto in molti parlano di incostituzionalità. Allora, prima abbiamo sentito Calderoli. Calderoli ha detto che verranno aboliti i comuni sotto i mille abitanti e le province con meno di 300.000 abitanti che in Italia sono tra le 29 e 35 province. Allora, cerchiamo di capire meglio con Frediano Finucci che cosa succederà nella struttura dello Stato. Per la geografia burocratica dell'Italia si tratta di una vera e propria rivoluzione. La manovra appena varata prevede infatti l'abolizione delle province sotto i 300.000 abitanti. Attualmente sono 36 con conseguente accorpamento. Al nord il Piemonte perde quelle di Asti, Biella, Vercelli e Verbagno, Cusi e Ossola. La Lombardia, Lodi e la storica provincia di Sondrio, terra d'origine di Tremonti. Il Friuli, Venezia e Giulia, Gorizia e Trieste. Il Veneto, Belluno e Rovigo. La Liguria mantiene solo quella di Genova poiché Imperia, La Spezia e Savona hanno tutte meno di 300.000 abitanti. Al centro la Toscana si gioca 5 giunte, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Siena. Le Marche, Ascoli, Piceno e Fermo. In Umbria, Terni. In Molise, Campobasso e Isernia verranno sicuramente accorpate e la provincia equivarrebbe alla regione. Al sud la Basilicata perde Matera e la Calabria, Crotone e Vibo Valencia. Il Lazio e Orieti, la Campania Benevento, la Sicilia, Caltanissette e Denna. Niente a che vedere con la Sardegna che con un tratto di penna si dimentica ben sei amministrazioni. Carboni e Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Oliastria, Olbia Tempio e Oristano. Le regioni che non perdono province sono la Puglia, l'Emilia Romagna e la Val d'Aosta, se non altro perché in quest'ultima la provincia coincide con la regione. La misura dei Tremonti crea dei paradossi. Alcune delle province accorpate sicuramente saranno più grandi di alcune regioni come il Molise e la Basilicata. Tutti i dipendenti verranno ricollocati. Via poi agli accorpamenti dei comuni sotto i mila abitanti sono più o meno 1.500. Ciascuna nuova entità verrà gestita da una specie di borgomastro come in Germania, ovvero un cosiddetto organo monocratico senza assessori e consiglio comunale. Circostanza che assieme all'abolizione delle 36 province cancella tra presidenti, sindaci e consiglieri a Spanne, circa 50.000 poltrone. Precisiamo, questi tagli partiranno non subito ma dalla scadenza dei mandati e dopo il censimento Istat del 2011. È uno dei versanti del taglio dei costi alla politica. Il secondo riguarda i parlamentari per i quali vengono aboliti i doppi incarichi di sindaco e senatore o deputato e assessore o amministratore di società pubblica. Sempre per i parlamentari raddoppia il contributo di solidarietà ha chiesto ai dipendenti privati e autonomi vale a dire il 10% oltre i 90.000 euro e il 20% oltre il 150.000. I parlamentari poi che hanno redditi personali di importo superiore al 15% all'indenità si vedranno decurtata a quest'ultima. Giro di vita e voli di Stato e niente poltrone di business class per tutti gli eletti siano deputati o sindaci e per tutti i dipendenti pubblici e gli amministratori. Una manovra che è già stata battezzata lacrime e sangue bocciata non solo dall'opposizione ma anche dagli amministratori degli enti locali il più duro è stato il governatore della Lombardia ha detto che il federalismo fiscale ormai è morto ma diciamo è una condanna bipartisan e senza appello. Sentiamo Barbara Batticciotto. Un atto di guerra contro l'Italia è durissimo il commento del governatore della Puglia Nicky Vendola sulla manovra da 25 miliardi varata ieri dal governo di cui 9 e mezzo saranno a carico degli enti locali. Misure punitive secondo i leader di Sinistra Ecologia e Libertà che porteranno a una devastante riduzione di servizi sociali e di diritti. Un colpo alla civiltà del lavoro dice senza nessuna scelta per la crescita e lo sviluppo occorre una reazione durissima. E contro la manovra anche il sindaco di Torino Piero Fassino che incita alla protesta è l'unico modo per far sentire le nostre ragioni dichiara la manovra mette a rischio i servizi minimi come gli asili e l'assistenza agli anziani non si può scaricare tutto su di noi facendoci diventare degli esattori togliendoci di più di quel che riceviamo dai cittadini non è il federalismo che la Lega aveva sbandierato. Di bacelleria sociale verso gli enti locali parla invece Nicola Zingaretti per il presidente della provincia di Roma l'ulteriore riduzione degli stanziamenti scardina completamente qualsiasi intervento sociale nei confronti dei più deboli ma sul piede di guerra non ci sono solo governatori e sindaci dell'opposizione i nuovi tagli a regioni province e comuni che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti nella manovra varata a luglio non piacciono a nessuno anche a molti diari a PDL tra i primi a muovere critiche alle scelte del Consiglio dei Ministri addirittura prima che lo stesso avesse fine il governatore della Lombardia Roberto Forbigoni che bolla la manovra del tutto insostenibile e invoca un intervento per modificarla intanto rilancia la sua proposta di accorpare le regioni che più grandi e con un PIL maggiore sarebbero sicuramente più efficienti e ribadisce che il federalismo fiscale non esiste più convinta che il federalismo sia prendendo una strada tutta in salita anche Renata Polverini governatore del Lazio che in un'intervista a Repubblica si dice preoccupatissima soprattutto per i servizi sociali e il trasporto pubblico fino a questo momento nonostante Italia abbiamo cercato di salvaguardare la spesa sociale vogliamo continuare a farlo ha detto ma non sarà facile potremo essere obbligati ad imporre nuove tasse sulla stessa linea anche Flavio Tosi sindaco di Verona l'auspicio dell'esponente del Carroccio è che Bossi tenga duro e spieghi all'amico Giulio che sta sbagliando Allora chiudiamo questa pagina dedicata alla manovra correttiva andiamo in Gran Bretagna in Gran Bretagna ormai da qualche giorno c'è calma sul fronte della guerriglia non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda invece i rapporti tra il premier Cameron che accusa la polizia di aver agito troppo tardi e la stessa polizia che invece accusa il governo di voler tagliare i fondi alle forze dell'ordine le servizie di Carla Rubor e ora è il momento delle polemiche tornata la calma nelle città dopo le rivolte che hanno provocato 5 morti e 1800 arresti nonché 200 milioni di sterline di danni inizia lo scaricabarile comincia il premier Cameron che punta il dito sulla polizia poco tempestivi gli interventi e troppo pochi gli agenti schierati dalla Metropolitan Police rispondono a tono ricordando al premier il taglio di 2 miliardi di sterline che il suo governo vuole apportare alla categoria dopo eventi del genere parlano sempre quelli che non c'erano aggiunge Tim Godwin capo ad interim di Scotland Yard con evidente riferimento alle vacanze in Toscana del premier interrotte forse troppo tardi Cameron in vertiginoso calo di popolarità affonda il colpo e pur facendo un mezzo passo indietro elogiando gli agenti per il lavoro svolto nelle strade trasformate in campi di battaglia assume come super consulente l'ex capo della polizia di New York di Los Angeles e di Boston Bill Bratton famoso per la sua tolleranza zero alla criminalità e per aver ridotto il tasso di omicidi di oltre il 20% e giù piovono ancora critiche cosa ne sa Bratton della legge della società britannica delle crisi sociali e dei disagi delle periferie alla base delle rivolte che hanno incendiato la Gran Bretagna si chiedono a Scotland Yard cheppure non se la passa bene decapitata dei suoi vertici durante il tabloid gate per i loro rapporti poco trasparenti con il gruppo di Marduk la polizia è nell'occhio del ciclone per aver diffuso all'inizio delle rivolte la notizia che Mark Duggan il pregiudicato di colore ucciso dagli agenti avesse per primo sparato un colpo notizia rivelatasi poi falsa ma la miccia era già accesa e sono roventi anche le polemiche sull'operato della polizia in Norvegia durante la strage di Oslo nella quale ricordiamo il 22 luglio scorso furono uccise 77 persone l'avvocato delle 32enne autore della strage fa infatti un'accusa ben precisa sentiamo Nifacola Santo pronto sono il comandante Anders Breivy che mi voglio costituire a riferire di questa telefonata arrivata alla polizia di Oslo nel pomeriggio del 22 di luglio e l'avvocato del 32enne folle norvegese a parlare al telefono è lui il mostro di Oslo proprio nei minuti in cui sta portando a termine sull'isola di Utoia il suo terribile disegno di morte in una intervista rilasciata al più popolare quotidiano norvegese Laften Posten illegale di Breivy che racconta che dopo aver fatto esplodere la bomba nel centro di Oslo e mentre imbracciando una pistola e un fucile spara sui giovani laboristi l'uomo raccoglie il telefono cellulare di una delle sue vittime e chiama la polizia effettua 10 telefonate ma riesce a parlare con un agente soltanto due volte vuole arrendersi dice l'avvocato ma riceve risposte che non capisce per questo avrebbe chiesto di essere richiamato proprio per essere certo che la polizia abbia capito cosa stesse accadendo e che lui voleva arrendersi una interruzione degli spari effettivamente ci sarebbe stata secondo l'avvocato in quel momento Breivy che aspetta una telefonata che però non arriva e riprende a sparare la polizia norvegese ha ammesso di essere in possesso di una registrazione ma senza confermare che la voce sia la sua un episodio che sta creando altre polemiche sull'operato delle forze dell'ordine accusate a questo punto non solo di essere intervenute troppo tardi e siamo allo sport mancano due settimane all'avvio del campionato di calcio alcune squadre devono ancora perfezionare alcuni acquisti e altre invece devono addirittura ricominciare con un nuovo allenatore vediamo cosa succede nel servizio di Daniela Comirato Roberto Donadoni è il settimo tecnico di Serie A che viene esonerato prima di cominciare il campionato sulla panchina del Cagliari siederà Massimo Ficcadenti in 19 anni di presidenza Cellino ha fatto fuori contando Donadoni 25 allenatori alla base del divorzio le divergenze sulla campagna acquisti mai cominciata dai rosso-blu a fronte di importanti cessioni questioni legate al mercato dunque le stesse che vedono ancora impegnate su più fronti ancora le big a due settimane dall'inizio della stagione tutti sembrano orientati verso il colpo dell'ultimo minuto l'Inter è a caccia del sostituto di Eto' Tevez dal City e alle loro condizioni cioè prestito con obbligo di riscatto non fa per Moratti le alternative sono il Bomber dell'Atletico Madrid Diego Forlan o l'Avezzi del Napoli l'argentino potrebbe essere ceduto per fare cassa e acquistare Giuseppe Rossi al Milan il pezzo mancante è a centrocampo fallito lo scambio Cassano-Montolivo si riparla di un ritorno di Cacà Conte denuncia la Juventus alla rosa incompleta la trattativa per Vargas della Fiorentina è ancora aperta come quella col Cesena per Giaccherini manca qualcosa anche alla Roma che ieri a cinque giorni dal debutto in Europa ha perso 3-0 con il Valencia Sabatini è in cerca di rinforzi Spagna i nomi Osvaldo e Nilmal e questa sera sulla 7 a partire dalle 20.30 la sfida tra Italia e Giappone di Rugby il servizio di Cristina Fantoni Placca corre e si diverte come un ragazzino Nick Mallet allenatore dell'Italia con la valigia già pronta ma con un gruppo mai così unito è deciso a scrivere un mondiale da protagonista tra un mese in Nuova Zelanda se devo essere veramente sincero tutta la squadra tutti i giocatori siamo molto dispiaciuti perché non è mai facile per un allenatore quando arriva in un paese nuovo in un paese come il nostro dove forse il rugby non era magari il rugby che Nick era abituato a frequentare non abbiamo mai trovato un allenatore veramente così attaccato così vicino alla squadra con un rapporto veramente umano così stretto e questa è una cosa molto importante soprattutto in una squadra di rugby di mezzo due test match a cominciare da quello di stasera contro il Giappone che abbiamo sempre battuto conta i passi misura il campo e pesa le scelte Nick Mallet un 15 equilibrato tra vecchi leoni e nuove leve per non allentare la tensione e stimolare la concorrenza ed è una prima assoluta per la nazionale italiana di rugby qui a Cesena lo stadio Manuzzi è uno stadio rivoluzionato come vedete niente barriere architettoniche non ci sono divisioni tra gli spettatori e i giocatori in campo sono state tolte le vetrate e anzi i 20.000 potranno al fischio finale concedersi un terzo tempo sul terreno di gioco davvero indimenticabile c'è la pubblicità tra poco il telegiornale termina qui vi ricordo soltanto che questa mattina è stata presentata la manovra correttiva da 45,5 miliardi è stata presentata dai ministri Tremonti Calderoli e Sacconi sono state illustrate tutte le misure anticrisi la manovra dalla mezzanotte di domani sarà in il decreto della manovra della mezzanotte di domani sarà in gazzetta ufficiale e poi il 22 di agosto approderà in Senato dunque non ci sono altre notizie vi ricordo il nostro sito tgla7.it il telegiornale delle 20 grazie per averci seguito e buona giornata